Allora, in generale molto del successo di questo team va dato a questo coach perché è riuscito a preparare in generale il team ad affrontare delle situazioni davvero tanto disparate con quella che è una composizione che ha dei nomi davvero importanti al suo interno. Basti pensare anche solo ad Afromu che si affaccia a Cody Sun che come tiratore, storicamente parlando, non è mai stato uno dei più brillanti dello scenario competitivo americano, però in questo team sembra essere rinato a nuova luce. Somnay in corsia superiore, Meteos in giungla, Ryu nella corsia centrale. I loro avversari saranno gli Optic Gaming che per quanto riguarda i nomi importanti anche loro comunque vantano un supporto storico che è Lemonation. All'epoca insieme a Meteos che va ad affrontare oggi due giocatori dell'originale composizione dei Cloud9, Arrow eccellente tiratore che però ieri ha tirato fuori un Draven davvero brutto. Arrow è un altro quasi One Trick Pony, Draven. Più che One Trick Pony è un main Draven di quelli proprio... solo io lo so giocare così bene in America. Il problema è che non è che lui abbia giocato male ieri, il problema è Draven nella 8.4. Andiamo a vedere questa draft però, ormai è iniziata da un po', tre ban già effettuati sulla corsia centrale per quanto riguarda Rai, Sgalio e Dazir, due degli Optic Gaming e uno per Zaya. Ha davvero un papillon di legno? Certo, ne esistono ammazze. Wow, che orrore. Se ne vendono più di legno che di stoffa tra poco. Vedi perché non mi fido della gente che mette i papillon? Comunque, vengono bannati Rai, Zgalio da parte degli Optic Gaming, non vogliono dare a Rio una possibilità globale, però potrebbe andare a optare anche per Thalia a questo punto. Bannato Olaf, gli Android Thieves vorranno bannare Scarner o meno? Sì, infatti, nel momento in cui banni Olaf come ultimo pick Red Side, Blue Side, perdonami, Red Side, hai la possibilità di una scelta. Hai la possibilità di impostare un Power Trade intorno a Scarner o andare a bannare Scarner stesso. Il jungler designato per gli Optic sarà Kazix, mentre gli Android Thieves mettono alla loro lo Zack di Niteos, il suo leggendario pick, e per Cody Sun arriva Varus. Ecco qua, arriva un pick solido finalmente all'interno della giungla, dato rosso della mappa, ovviamente stiamo parlando dei 100 Thieves con questo Zaunita Morpho da combattimento. Vediamo la risposta degli Optic Gaming, mancano ancora due pick per chiudere la prima fase di draft, la prima fase di selezione dei campioni. Allora, qui da parte in generale... oh, arriva Orianna per Power O'Vivo, lo ricordiamo una delle sue principali zone di comfort. Questo giocatore con questo campione è stato in grado di estri creativi davvero particolari. Vediamo la sua Orianna essere strutturata in diversi modi. A seconda che vado a optare per l'evocazione di aerei o per il piede lesto, vedremo un'Orianna basata sulla velocità d'attacco o basata sull'Ability Power. Arriba Caitlyn come tiratrice. Il problema è che vanno letteralmente a selezionare una Caitlyn e uno Zack. Solitamente Zack viene selezionato proprio per andare a counterare il cecchino di Piltover, per la voglia di rimanere da parte di questo tiratore a lunga distanza, molto lungi insomma dalla compagine della squadra avversaria. E invece la particolarità che ha Zack con la sua catapulta elastica proprio di arrivare addosso. Ma ti stavo dicendo, intanto arriva immediatamente Talia per Ryu perché una volta rimossi Raiz e Galio era l'unico pick con presenza semi-globale disponibile e sappiamo che Ryu su questa classe di campioni riesce a muoversi davvero bene. L'avevamo detto proprio all'inizio ban ed era abbastanza scontato qui da parte degli Andretteevs. Talia contro Rian comunque non è incomoda, può continuare a permettersi di pulire ondata su ondata su ondata di Minion. Probabilmente andrà a optare anche per uno smaterializzatore, la Talia di Ryu, giusto per tenere Power Vivo lo sottoscacco in Corsia. Vedremo adesso per cosa andrà a optare Zabutin, rimosso Shen da parte degli Andretteevs. Rimosso Shen, gli Optic dovrebbero iniziare a tagliare le gambe ad alcuni pick tankosi come Sion e invece no, Gangplank. Vanno a rimuovere Gangplank dunque, come ha ricordato il mio collega Sion è ancora aperto all'interno di questa draft, manca il secondo ban di One Andretteevs. Devono ancora selezionare supporto e top laner i membri degli Optic Gaming. Allora, qui da parte degli Optic, che cosa vai ad associare generalmente a questa composizione? Intanto ti serve qualcosa per consegnare la sfera che non sia semplicemente KazX, perché KazX può essere troppo facilmente interrotto nel suo compito. Quindi, o arriva un top laner come ad esempio Sion, da parte degli Optic, dopo il ban di Gangplank, giusto per metterlo in una condizione di comfort, o se gli Andretteevs dovessero mettersi uno della loro, effettivamente stai obbligando anche quella zona della mappa subottimale. E chi arriva a quel punto nel ruolo di support? Potrebbe arrivare un trash da parte degli Optic Gaming per cercare non solo di contrastare Zack nelle fasi tardive di partita, per cercare di aggredire quello che è un tiratore immobile come Varus, e poi per farsi anche da strumento ulteriore di consegna della sfera, grazie alla sua sentenza di morte. Andretteevs che dalla loro adesso hanno un pick per l'ultima fase di pick, prima di quella degli avversari, dovrebbero... Vado a prendere Alistar addirittura. Per tenere sotto scacco un potenziale trash. Oltre a quello, anche per poter togliere un possibile ari di stare gli Optic Gaming, perché comunque è uno strumento di ingaggio, sinergizza bene con Caitlyn e countera particolarmente bene Zack. Sì, sono d'accordo anche da questo punto di vista. Quindi anche Alistar poteva rivelarsi un buon pick per gli Optic Gaming, di conseguenza trovano i 100 Thieves due piccioni con una fava con questo pick. Impediscono sia il pick di trash, sia una possibile opzione. Allora, arriva Brom qui per gli Optic Gaming. Buona la fase di corsia in generale contro Varus Alistar. Buona la sinergia con Caitlyn, ha dato il lungo raggio della tiratrice di Piltover. Ma ancora sembra mancare qualcosa nella comp... Maokai! Ecco che cosa manca, un Maokai. Secondo me potrebbe essere la scelta più adatta da parte di Zieg. Invece no è Chogat. Questa draft non mi piace per niente, sarò sincero. Salvo una condizione, Power Vivo lo va a optare per la Power Vivo Special, quindi un Orianna abbassata sulla velocità d'attacco con il dente di Nashor. E a quel punto non vuoi il burst sull'onda d'urto, ma vuoi... Oh! Darius! Buongiornissimo! Darius che è ritornato in assoluto in meta dopo i cambiamenti della patch 8.4 e lo rivediamo qui nel competitivo. Che meraviglia! Darius! Ok, comunque campione ultra buffato nell'ultima patch. Con cosa te lo aspetti? Personalmente scatto fasico. Sì, assolutamente, lo giocano solo così. A livelli alti in solo chi lo giocano quasi solo con scatto fasico. Ho visto giusto un Prezvi Attack una volta. In 8.4 è ancora debole, secondo me in 8.5. Comunque sì, scatto fasico tutta la vita. Che bel pick! Giusto per creare un po' di brio in quelle che erano delle draft che sembravano voler essere un po' statiche, ma qui Coach Prolli ci mette lo zampino e arriva. La faccia dei coach di Zabutin è tipo... Io non li ho allenati a giocare contro Darius. Se ce la fanno, ben per loro. Oh, ma che è il suo pick? Un nuovo campione! Wow! Optic Gaming contro 100 Thieves. Vediamo anche il loro score. 4 vittorie e 11 sconfitte per gli Optic Gaming, la squadra nero-verde. Mentre 9 vittorie e 6 sconfitte per quanto riguarda i 100 Thieves. A questo punto, signore e signori, lasciamo la parola a voi, come di consueto. Hashtag OPTWin se ti fate per la composizione noiosa. O hashtag 100Win se ti fate per Darius, la mano di Noxus. Tra l'altro, Darius, fratello di Draven, di conseguenza, anche un po' un modo per stuzzicare Arro. Esatto, esatto. Ok! E' un pick che non vedevamo da tantissimo tempo in competitivo. Sai da quando? Da quando c'è il meta dei mondiali di due anni fa. Il meta dei Juggernaut, i mondiali della stagione 5, dove vedevamo Boltz, che era riuscito a mettere a segno una pentakill contro i Fnatic. Giocava ancora nei Cloud9. Che mi meraviglia, che meraviglia. Con Darius appena reworkato, che era una delle cose più sbroccate del mondo. E tra l'altro, quella bottigaming chiamano immediatamente una pausa, perché hanno visto un nuovo campione in gioco e si stanno consultando tra di loro. Stanno andando su LOLpedia per guardare il kit del campione, vedere le abilità. Hanno chiamato Freak per poter fare la Champion Spotlight immediata. E al di là di quelle che possono essere le battute, verremo a breve informati dalla regia di quella che è la causa della pausa stessa. Ne approfittiamo anche per andare a commentare meglio la situazione. Però Darius, in quella posizione, ok, ci saltiamo sempre quando vediamo un pick nuovo. Ma cerchiamo di rimanere oggettivi. Cosa può dare al team degli Andre Thieves? E cosa possono invece gli Opti Gaming sfruttare di quel Darius? Allora, inizialmente c'è intanto un pick che vuoi o non vuoi è un Juggernaut, ok? Quindi è un pick immobile che ha bisogno di trovare kill o morire. A questo pick si va a facciare una composizione forte di Chogat Kaziks per le impostazioni di gank. Con Orianna nel ruolo di mid laner. Comunque con dei controlli discreti anche nella corsia inferiore. Non sarà un Darius di facile esecuzione quello. Dall'altro lato invece la possibilità di Varus di mettere a segno una catena della corruzione è il setup perfetto per quel Darius. Se consideri comunque poi la formazione... Se vuoi arrivare velocemente agli avversari, allora gli avversari vengono bloccati, allora ci puoi arrivare lentamente, ma l'importante è fondamentalmente arrivarci. Esatto. Grazie a catena della corruzione. C'è anche Zack, quindi comunque anche gli ingaggi al lungo raggio non vengono disdegnati da parte della composizione degli Andre Thieves. E se sappiamo una cosa di Mitios è che Zack è il suo campione. È stato lui a portarlo in competitivo, è stato lui a renderlo il blob forte e indipendente che è oggi. E comunque viene confermato lo scatto fasico su Sunday. Sì, assolutamente. Comunque è quella runa chiave che si fa fortissima, che si energizza particolarmente bene con Darius proprio perché va a conferire quella velocità necessaria per arrivare agli avversari. Non solo resistenza ai rallentamenti. È una delle forme principali di controllo che vantano gli Optic Gaming. Perché hai il rallentamento delle spine Vorpal, il rallentamento dopo il knock-up della spaccatura di Chogat, il rallentamento delle spine del vuoto di Akkadian. Là il comando distorsione. Hai di tutto. Dissonanza, che distorsione. Cervello? In generale quindi capacità di arrivare agli avversari. Come dicevo, vediamo come andrà questa partita. Optic Gaming contro 100 Thieves. Dunque, con questo pick particolare di Darius nella corsia superiore. Smaterializzatore che è normalissimo. Lo vediamo sempre praticamente nell'inventario di Thalia. Mentre nella corsia inferiore... L'avevamo anche preventivato tra l'altro. Assolutamente. Un contrasto tra Lemon Nation ed Afromu. Proprio su questo oggetto conferito dalla runa. Allora, allora, allora. In generale da parte dei due support considerati... Uno ci prova a rimanere serio. Poi ti fan ste cose. E vabbè, li adoro. Io letteralmente adoro gli LCS nordamericani. Sì, sono abbastanza particolari dalla loro. Possiamo definire, lo abbiamo visto nelle ultime settimane con partite fantastiche come quella tra Counter, Logic Gaming e Golden Guardians. Sì, fantastiche. Nel senso negativo del termine, ovviamente. Esiste un senso negativo della parola fantastico? Sì, sì. Fantastico? Esiste. Quando non il pronunci in maniera sarcastica. Oh, ok. Un po' come quando ti dico che sei bravo a castare. Sunday, intanto comunque per lui la gestione della corsia superiore non dovrebbe essere scomoda. Comunque consideriamo che Darius, anche lui, va ad alternare a quella che è la Suprema di Chogat. Una Suprema che ha dei danni puri davvero per Santi. Una volta sbloccata al livello 16, sarà in grado di concatenarla in maniera efficacissima anche su scenari più prolungati di una semplice schermaglia singola. E ti giuro non vedo l'ora di vedere i teamfight con quel Darius che va a flancare. Perché è quello che vuoi su quel Darius. Trovare il flank perfetto, trovare semplicemente una Q su più persone, mettere quante più stack possibili di emorragia. Le possibilità sono davvero tante. Una cosa che vediamo un po' differente rispetto alla moda che c'è ora nelle LCS europee è proprio l'utilizzo dello smaterializzatore fin dalle fasi iniziali di partita. Per ciò per la quale è stato creato comunque questo oggetto, cioè andare a pushare le fasi di corsia, a mettersi in condizioni favorevoli. In Europa stiamo vedendo tantissimo il volersi tenere un minimo di 3 o 4 stack per le fasi finali di partita in modo da andarle ad utilizzare con il standard del comando. Attenzione a Meteos, è lì in corsia, cerca il gang dal cespuglio, la catapulta elastica e... Perché non salti? Oh ed eccola qua, catapulta elastica costretto al flash immediato, Zeke bloccato una seconda volta, anche dai colpi allungati, riportato all'indietro, ci sarà il primo sangue delle mani di Sunday. E il tiro di 3 arriva da parte di Sunday. Primo sangue per lui e questo è gravissimo, anche perché Meteos sta pushando aggressivamente la corsia, vuole portare quell'ondata di Minion sotto la torre nemica e Zig inizia un bruttissimo quarto d'ora. Ryu trova Akkadian nella sua metà campo, è isolato, non trova il movimento. Un poca vita Akkadian, basterebbe un'ultima raffica filettata, però a power of evil si piazza davanti al compagno di squadra in stile... No signor Presidente! Presidente! Signor Presidente! Mi ha scorreggiato il cervello! Qui da parte degli Andretteavs vediamo il replay di quella che è stata l'aggressione in corsia superiore con Meteos che trova un ottimo gank da parte del... Semplicemente è troppo facile gankare un Chogat se sei Zack. Qui Zig ha panicato letteralmente perché ha flashato appena visto Chogat, perdonami, appena visto Meteos, senza portare il minimo rispetto verso quello che era il colpo allungato. E i controlli sono troppi da parte del duo degli Andretteavs. Se Darius trova vantaggio in corsia, quel Chogat non può neanche più vivere. Ricordiamo che data l'interazione tra l'emorragia e la mannaia oscura, per Darius basta mettere a segno un autoattacco per applicare tutte le stack di mannaia oscura. Perché l'emorragia va a infliggere danno fisico nel tempo e ogni tick di emorragia procca anche un tick di mannaia oscura. Assolutamente, anche dunque le possibilità di andare a ridurre dunque l'armatura del top laner avversario. Zig si trova in una situazione davvero particolare in questo momento. Non bene, al sottopunto di vista del farm, riesce ancora a reggere ma quel flagello farà malissimo dall'inventario di Sunday. Capitolo perduto, concluso per entrambi nella corsa centrale. In questo caso non vediamo la lacrima della Dea per quanto riguarda Paguro Vivol. Cosa ci si può aspettare da ciò? Perché comunque quello che vediamo spesso è che Paguro Vivol... Allora intanto piccola parentesi, attenzione in corsia inferiore... Il blocco che fa segno su di Afromo se ne va via metà vita, un po' come Cody Sun dall'altra parte. Semplicemente un piccolo trade a favore degli Opti Gaming proprio per la protezione che può conferire Lemon Nation al compagno di squadra. E ti stavo dicendo, la questione riguardo la corsia centrale è che comunque Paguro Vivol ha l'evocazione di Eri della sua... L'avevamo preventivato... No, che brutta vita che vogliono far avere a quel top laner. Camperato a morte. Anche Darius. Muro è la testitrice a disposizione per lui. Letteralmente deve stare sotto la torre interna. Va a conquistare il guardiano di quarzo della squadra avversaria. Ovviamente l'avevamo preventivato. Darius è un Juggernaut, è un pick immobile che ha bisogno di fare danni, ma qui attenzione... Abbiamo una catapulta elastica su di Paguro Vivol, colpo allungato che va a segno anche Afromo dall'altra parte come se non bastasse. I guai non finiscono più per Paguro Vivol. Bloccato più di una volta e l'esvounce che va a segno. Akkadian cerca un'uccisione su di Ryu. Uccisione che non viene trovata dal jungler degli Opti Gaming. Akkadian stava applicando i danni puri di quello che è lo smite rosso, ma ho visto una cura immediata su Ryu. Ah, ecco che cos'era, c'era Afromo in zona. Appena è stata completata l'uccisione su Paguro Vivol. Ricordiamo che sulle uccisioni dei campioni, la passiva di Alistar procca all'istante. E ha curato Ryu di un quantitativo di HP sufficiente a permettergli di sopravvivere ai danni puri nel tempo che lo smite rosso di Akkadian stava infliggendo. Fortunato il mid laner degli Andretivs, ma molto ben gestita l'azione da parte loro. Il primo drago è un drago infernale, un drago infernale che fa comodo in generale sia gli Opti Gaming che con Andretivs. Andiamo un attimo a rivedere quest'azione, quest'ingaggio a più persone su di Paguro Vivol. Flash immediato da parte sua e arriva Afromo che sta praticamente passando la partita in quel fiume a rumare in continuazione. Occhio alla corsia superiore. Mamma mia, Sandy si permette un uno contro uno con Zig e addirittura andarlo a diveare sotto la sua torre. Di danni ne comincia a fare e si sentono, si sentono. Signore e signori è Air Jordan in corsia superiore per gli Andretivs che mette a segno una schiacciata praticamente da fuori campo. Ma occhio ad Akkadian, i danni ci sono. Aia, ma sarebbe un ultimo attacco base e non riesce a recuperare vita. No, no, dai, dai, Akkadian, dai, perché sei andato indietro Akkadian? Ok che hai dei bei bicipiti, ma se li usi per fare queste cose non servono a niente. Sunday si salva signore e signori. E questo è un drago infernale gratuito per gli Andretivs e l'inferno arriverà per gli Optic. Ah, l'inferno arriva anche per Ryu nella corsa centrale. E' un tentativo di ingaggio di Akkadian che effettivamente non trova nulla. Un piccolo rallentamento iniziale con il buff della Robo Bessia Cremisi e a seguire quello delle spine del vuoto. Parlavamo del drago infernale. Il drago infernale fa davvero davvero comodo sia ai One Andretivs che agli Optic Gaming per svariati motivi. Gli Optic Gaming hanno tre fonti di danno principali. Stiamo ovviamente parlando di Akkadian, Paguro Vibol e Darrow rispettivamente con Kazix, Orianna e Caitlyn. Dall'altra parte i One Andretivs si ritrovano con Talie e Varus come fonti di danno principali o meglio DPS all'interno delle schermaglie. Mentre un Sunday nella corsa superiore che sta vantando un Darius enorme. Questo Darius ormai abbiamo appena visto. Ha trovato la solo kill sotto torre. Che cosa vuoi fare? Ed era stato anche no cappato. Il problema è che eccolo qui. Vediamo il proc dello scatto fasico. Quel Darius inizia a correre come un treno e non c'è possibilità di contesa. Zig sciolto. Perfetta concatenazione tra l'altro degli attacchi base con le abilità di Darius. D'accordissimo. Ricordiamo che oltre a quelle che sono le stacche di emorragia che vanno a infliggere danni fisici nel tempo. Darius dalla sua trova anche poi a D-bonus una volta che mette a segno tutte le stacche di emorragia. Quindi che non sono... No dai regà. Vogliono minimamente lasciarlo in pace Ziggs. Arriva anche Miku. C'è anche Ryu. C'è anche Ryu con il muro della testitrice. Mamma mia Zig. Non può fare nulla, nulla, nulla. I controlli ci sono. I danni anche. Zandey si ritrova in una situazione di 3-0 al minuto 10. A fine partita verrà aperto un comitato di raccolta fondi in favore di Zig per pagargli le cure psichiatriche verso le quali questa partita lo porterà. Perché, poveretto, Darius ha 2.000 gold di vantaggio. C'è delle 3.000 unità che in questo momento separano gli Undertiefs degli Optic. Solo 2.000 sono di Darius contro Zig. Enorme, enorme. Differenza di Minion anche che va a pesare sotto questo punto di vista. La prima torre fa comodissimo. E il Drago Infernale anche. Cioè, come se non bastasse oltre il danno e la beffa si va ad aggiungere sui Zig. Questo è maltrattamento però. Ok, siamo in seconda serata, possiamo trasmettere scene cruente. Ma questa è accanimento terapeutico, tortura, bullismo. Non lo so più neanche come definirlo. Wow, che... Allora, al di là di quello che possono essere le battute, oggettivamente l'impostazione da parte degli Undertiefs è l'impostazione corretta. Se quel Darius fosse rimasto indietro sarebbe stato, non dico un pic inutile, ma quasi. E invece vuoi un Darius che trova vantaggio della sua. In corsia inferiore, quello che mi sta non tanto sorprendendo però è una nota greve ulteriore per gli Optic. È vedere Codisanne e Afromu che stanno impostando dei tempi di corsia aggressivi contro una Caitlyn Lane. E nel momento in cui, top lane, letteralmente non hai più una top lane, ok? Zig sta aiutando... Mamma mia Meteos. Quanto è fastidioso lo Zack di Meteos. Cioè, capite perché questo gioco... Non basta, non basta la corsia superiore. Vuole andare anche su Akkadian. Vuole anche Akkadian. È giusto così. È sopra. Può farlo. I have the higher ground. E in questo caso, sinceramente... Guarda Akkadian, è terrorizzato. Cioè, non sanno veramente più neanche che fare a questo punto gli Optic per cercare di riconquistare terreno sulla mappa. Gli Andretteevs hanno ormai fatto della giungla avversaria a casa propria. C'è anche Darius lì in zona. Colpo allungato non va sempre da parte di Meteos. C'è una trappola... Dalla trappola per York di Arrow. E semplicemente si prende la sua roba bestia cremisi Akkadian. Mentre è costretti a ritornare verso la corsia inferiore sia Fromu che Cody Sun. Sun dei tranquillo a caccia di Fate. Folletti in giro per la landa degli evocatori. Qui comunque va detto che la rotazione di Darius ha permesso a quel poveretto di Zig di farmare un po' in corsia superiore. Quindi un minimo di respiro per quel Chogat. Che come scelta infelice va a optare per una gloria del giusto come primo oggetto. Non so quanto sia ottimale. Non lo so, corri più in fretta in faccia a Darius per farti uccidere prima? Come funziona quell'oggetto in questa situazione? Ma letteralmente sì, corri più in fretta in faccia a Darius per farti uccidere prima. Ah no, decide di non completare la gloria del giusto per mettere dalla sua dei calzari del ninja. Ok. Letteralmente credo che Sun dei può andare a sfruttare il suo vantaggio per posizionarsi in una situazione di split pusher. Ok, spostando un po' gli equilibri degli Opti Gaming. Ecco, in questo caso gli Opti Gaming possono rispondere con il loro Chogat e con quella gloria del giusto. Proprio cercando un fight in sicurezza numerica in un'altra porzione dell'Olanda. Qui, attenzione a Ryu. Akkadian invisibile perde metà vita Ryu. Decide di saltare addosso in un secondo momento. Peccato la lontananza di Pagano People. Sta saltando Meteos, non riesce a prendere Akkadian con la prima. Catapulta elastica si rigira. Il let's bounce per spingerlo all'indietro. Ancora la passiva a disposizione. Non riesce a prenderlo Lemon Nation con l'utilizzo del morso del freddo. E anche qui la situazione si resetta. C'era Samday e non vuoi lottare contro un Darius 3-0-0. Proprio è una di quelle cose che dici magari anche no. Qui, Samday, parlando di lui in generale, il vantaggio in partita è tale da poter essere comodamente distribuito alle altre corsie. In questo caso va in manforte dei compagni di squadra che stavano leggermente soffrendo in corsia centrale. Andre e Thieves si trovano comodi, molto molto comodi al momento. Anche perché comunque, per quanto effettivamente Varus non sia tra i migliori utilizzatori del Drago Infernale, andando ad accumulare principalmente danni sul colpo e velocità d'attacco. Dall'altro lato, al livello 18, la quantità di AD che è la passiva di Darius ti conferisce una volta completate le stack è pari a 200. Ok? Vuol dire che avere anche solo un Drago Infernale porta quegli AD a passare da 200 a 216. Che dici? Sembra poco, ma ti posso assicurare che non lo è. Ancora Cadian si sta concentrando nella zona della corsa centrale. Cercherà un gank su di Ryu, pulita tutta l'ondata, arriva in questo momento invisibile e non riesce per poco, per poco, a trovare un possibile ingaggio. Anche perché ci sono sia Meteos che Afromu dall'altra parte pronti ad impedire azioni proattive agli OptiGaming. Drago Giannico, come dicevamo, che può effettivamente far comodo, soprattutto in queste fasi iniziali di partita. Ci troviamo ancora al minuto 16 e quella torre nella corsa inferiore deve ancora essere spinta. Guarda, quella torre effettivamente penso che sia l'unico tassello a tenere in piedi gli OptiGaming al momento. perché il fatto che comunque tutto quel vantaggio in corsia superiore si sia mantenuto solo in corsia superiore è un arginamento di quella che è la catastrofe. Il problema è che gli OptiGaming non stanno trovando nessuna impostazione proattiva né reattiva. Perché, allora, a livello semplicemente qui Ryu su Power O'Vivo... Ryu gank praticamente su se stesso nella sua corsia. Prova di vendersi Power O'Vivo con un'onda d'urto. non ci riuscirà mai, non riuscirà mai a salvarsi. I danni di Ryu e Sunday uniti sono troppi e allora i 100 Thieves ne approfittano. Evocano il messaggero della Landa che si andrà da battere sulla corsia centrale mentre Sunday cerca ancora dall'altra parte altri ingaggi. Muro della testitrice utilizzato per tentare di chiudere fuori Akkadian. Riesce ad andare dall'altra parte della cadena della corruzione che va a bloccare in un secondo momento Arro. Prova a salvarlo con tutti gli strumenti a disposizione Lemon Nation. Ma letteralmente Viteos si butta su di lui e lo riporta in casa base. Secondo colpo del messaggero della Landa sulla seconda torre della corsia centrale. I 100 Thieves andranno a conquistare non una ma ben due strutture. Intanto informo da casa che la pernacchia che avete sentito di sottofondo era il suono del messaggero della Landa quando si schianta su una torre con solo 82 HP. Perché non fa proprio la classica BAM! Fa proprio una... Si sconfia a mo' di palloncino bucato praticamente. Comunque comunque nonostante i bassi HP del messaggero della Landa gli 100 Thieves riescono molto comodamente a conquistare anche la torre interna in corsia centrale e se fino a poco fa stavamo dicendo finché ci sono le torri c'è speranza adesso non ci sono più le torri. E... Parliamoci chiaro. Gli Optic comunque non stavano più lottando per la classifica e si vede anche la scarsa forma mentale con la quale sono entrati in partita. O meglio, con la quale non sono entrati in partita. È brutto a dirsi ma oggettivamente gli Optic questa non la stanno giocando. Assolutamente, sono davvero troppo avanti con l'Andre Thieves anche tutte quelle kill semplicemente posizionate su di Sunday fanno davvero troppo comodo alla squadra dei 100 ladroni allora Kodisan va a spingere sull'ultimo obiettivo quello che mancava dell'anello esterno di torri ovviamente la prima torre della corsia inferiore. Qui a questo punto cosa gli impedisce di avanzare verso quella interna? Purtroppo la risposta rischia di essere niente. C'è Zig che sta cercando un'impostazione su quel cespuglio ma Akkadian rischia tantissimo costretto a saltare via da quello che era il movimento sismico d'Italia l'impostazione sulla torre interna? Guarda Sunday tranquillo, corsia superiore mette in push le ondate di Minion qualcuno si dovrà spostare infatti già vediamo i ping degli Optic Gaming come se ne approfitteranno i 100 Thieves andando a pushare invece la torre della corsia centrale e della corsia inferiore Sunday addirittura non si preoccupa cerca quasi un 1 contro 2 proprio così l'ignora raga provateci io non vi dico niente però dalla mia ho una corazza spirituale quindi Orianna non è che proprio mi fa danno ma figurati nessun problema e allora i 100 Thieves all'interno della giungla della squadra avversaria cercherà quantomeno Ryu un possibile 1 contro 1 con Zig che sta rischiando leggermente lo smottamento che non va a segno sui Zig arriva al teletrasporto da dietro di Sunday per cercare di chiudere un'uccisione proprio sul top player della squadra avversaria lo smottamento che in questo caso va a segno troverà l'uccisione Ryu e questo è ottimo è ottimo perché sposta i 100 Thieves in una situazione di superiorità numerica e effettivamente Sunday qui si rivela anche essere un giocatore di squadra cosa che non è solito vedere sui giocatori di Darius perché aveva a disposizione la Suprema avrebbe potuto chiudere istantaneamente la kill qui intanto arriva un Barone Nashor del ventesimo minuto proprio sullo spawn arriva anche il muro della destitrice a bloccare qualsiasi possibilità Arrow dovrebbe usare la rete calibro 90 ma non c'è la disposizione e non c'è nulla da fare Barone del ventesimo minuto per gli 100 Thieves troppo lontano Akadian non può arrivare in nessun modo eccolo qui questo Barone effettivamente ha 20 minuti e 25 obiettivo neutrale importantissimo per i 100 Thieves permette a questa compagine di andare a chiudere ancora più facilmente la partita Zig sembro io quando vengo autofillato top cioè della serie prendo un pick super sicuro con il quale dovrei solo farmare ma riesco a perdere comunque la corsia è più o meno è una brutta situazione colpa anche comunque dei ripetuti gank di Meteos e Ryu ha giocato uno contro tre letteralmente cioè per buona parte dell'early game sì e per il resto non ha giocato quindi la parte di partita che ha giocato l'ha giocata uno contro tre manca anche qui la spaccatura quindi non riesce a trovare neanche il knock up sugli avversari Cody Sun adesso si permette comodamente di pulire la giungla con Afromu che piazza lumi qui e lì Akkadian ha l'invisibilità dalla sua ma i danni da isolamento non sono trovabili semplicemente perché tutta la compagine degli 100 Thieves è lì nella sua giungla Afromu cerca per un attimo un ingaggio su di Akkadian davvero al limite del range della testata deve stare leggermente attento Sam perché ci sono sia Lemon Nation che Zig all'interno del Cespuglio il problema è che è Sunday è così avanti che quanto deve stare attento ma anzi oh li va a spottare semplicemente con il suono che deriva dal suo decimale ma ora si trova con pochissima vita anzi con zero vita l'ho gufato lo mandano al cimitero dall'altra parte i 100 Thieves nella corsa centrale tenderanno cercheranno di prendere questa torre forse forse anche l'inibitore ma arrivano Lemon Nation Arrow Power Weevil e l'intera squadra degli Optic Gaming proprio per contrastare questo obiettivo riescono a salvare l'inibitore che però se pensi che stiamo pronunciando questa frase al 22esimo minuto questo ti fa capire quanto grave sia la situazione degli Optic Gaming hanno una kill dalla loro che è l'unico punto della bandiera che sono riusciti a trovare in partita per vendetta è riuscito a prendere Zig la kill adesso arriverà un Drago dell'Oceano terzo Drago Elementale al 22esimo minuto non c'è lì Akkadian in zona ma non so quanto se la senta di andare a contestare questo obiettivo Drago dell'Oceano dunque che verrà conquistato ora poca vita via semplicemente non lo possono contestare come diceva il mio collega Akkadian utilizza il suo richiamo base per andare a capitalizzare i propri oggetti ad acquistare una possibile lama crepuscolare di Draktar che non arriva tuttavia in questo momento lama crepuscolare di Draktar che ricordiamo verrà nerfata a breve però c'è un piccolo problema che la lama crepuscolare verrà nerfata ma tutti gli utilizzatori della lama crepuscolare verranno buffati di conseguenza Zed Vukong Vukong ha subito un buff proprio stupido 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 deve stare davvero attento a Kkadian l'ingaggio da partire a promo a bloccarlo una seconda volta arriva anche Meteos che non vuole lasciare in pace il jungle dell'avversario Zik prova a fuggire costretta il flash oltre al muro artificiale di Ryu ma vogliono insistere su di lui arriveranno anche contro il diafrumu non servono nemmeno troverà un'altra kill Ryu purtroppo non c'è davvero niente da fare in questo caso gli Andre Thieves sono all'interno della base nemica vanno a trovare l'inibitore al ventitresimo minuto grazie al barone Nashor scade adesso questo potenziamento gli Opti Gaming si trovano con due morti sul tabellone e senza nessuna possibilità di reazione adesso la rotazione in corsia inferiore li porta a pulire un'ulteriore torre all'esterno della base nemica ingaggia qui va a bloccare Arro e lo porta all'interno della compagine dei 100 Thieves ancora un'altra kill non basta la struttura ebbene prendono anche Arro e allora prenderanno un'altra struttura anche la terza torre della corsia inferiore andranno a prendere l'inibitore in fondo non c'è problema hanno un'autostrada di fronte a loro in questo momento c'è Meteos che dall'alto del suo 007 sta guardando gli Optic in faccia e gli dice il mio nome è Blob James Blob il suo Zack il suo Zack è riuscito letteralmente a giocare la partita da solo perché ok stiamo vedendo un Sunday enorme ma quel vantaggio è stato permesso solo da parte di Meteos una partita incredibile da parte sua era ubiquitario sulla mappa ogni volta che vedevi qualcuno degli Opti Gaming cercare di mettere piede all'interno della propria giungla c'era Meteos lì sempre presente non solo non solo nella giungla avversaria oltre che nelle fasi iniziali di partita su quello ZIG ma in generale ottimo ottima efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei propri controlli e del proprio kit qui Sunday trova un lume di controllo cordialmente regalato da parte di Akkadian l'aveva posizionato letteralmente dieci secondi prima c'è un tentativo disperato di difendere quella torre ormai non sanno più neanche che cosa fare gli Opti Gaming linea di trappole ma è assolutamente insignificante contro quella che è la catapulta elastica guarda Akkadian ahia ancora una volta su di lui il colpo allungato che non può essere sfruttato al massimo visto che non c'è la possibilità di tirare un secondo attacco base neanche un lume nella zona catapulta elastica ancora il muro della testitrice andrà a bloccare Paolo Vivol una volta una seconda l'onda d'urto su tre persone non basta almeno non per ora arriva l'uccisione con la schiacciata di Sunday sopra la testa del mid trainer avversario voglio andare anche su di Zigg doppia uccisione per lui quanto è aggressivo Sunday ma quanti ne vuole ancora quanto se lo può permettere soprattutto qui Akkadian cerca l'uno contro uno contro Ryu e ci muore e ci muore non basterà mai l'indistruttibile dell'Emonation nulla indistruttibile per questi 100 Thieves che non solo vanno a prendere campioni non solo vanno a prendere le vite degli evocatori della squadra avversaria ma anche la base anche la fontana si voleva fare un bagnetto il jungler dei 100 Thieves dai essendo la skin pool party è anche appropriato signore e signori in quella che è stata una delle partite più veloci e unidirezionali di tutto lo split gli 100 Thieves schiacciano triturano asfaltano lastricano gli opti gaming modalità ruspa per loro davvero ottima prestazione da parte di questi giocatori che vanno letteralmente a schiacciare la squadra di Power Evil e Company vedendo leggermente le statistiche Power Evil nella corsa centrale la squadra di la squadra di la squadra di